Moreno Ratti, Carrara, 31 anni. Il mio progetto è Cross the Library, sono partito da una X, poi chiaramente la mia X non funzionava per problemi di costi, assemblaggi, utilizzo di collanti, sprechi di materiale, sono arrivato ad un'asta con un giunto a baionetta. Andando ad inserire i pezzi riesco a riformarmi la mia X. È stato utile, formativo e soprattutto stimolante perché avere la possibilità di toccare, capire sinceramente quali sono stati le difficoltà, uno del materiale che per me era sconosciuto e due è proprio del capire come le macchine intervengono sul materiale per ottimizzare sia i costi sia gli sfridi. Mi ha permesso di ottimizzare al meglio, almeno ho cercato di ottimizzare al meglio per risparmiare sia sul tempo che sui costi. E quindi è stato utile, formativo e penso di avere conosciuto anche persone molto interessanti. Speriamo che ci sia un seguito a tutto questo.